Ciao, sono Luca Gironi e faccio parte del team Human Resources di KPMG Studi Associato. In questo momento siamo alla ricerca di giovani laureati in giurisprudenza da inserire all'interno di uno dei nostri team legal. Se desideri entrare a far parte di una realtà giovane a respiro internazionale e vuoi intraprendere la pratica professionale per diventare avvocato, mandaci il tuo CV all'indirizzo che trovi in descrizione o consulta le posizioni aperte sul nostro portale Careers. Ti aspettiamo!